Ma che è giusto che le attività dei professionisti possano essere quanto più snelle possibili. Come voi ben sapete il Governo è molto attento da questo punto di vista. Il Ministero della Giustizia in particolare sulle professioni è già intervenuto a piedi uniti su tante situazioni. Ora c'è il problema fiscale. Diciamo che non ci siamo fermati alla pace fiscale. Sono allo studio insieme al Vice Ministro Leo ulteriori interventi che possano ancora di più consentire al Paese un migliore rapporto fra pretesa tributaria e adempimento. In questo i professionisti sono ovviamente in prima linea e sono fondamentali perché sono un po' il metronomo di questa pretesa dello Stato. Una giusta pretesa ma che deve incontrare un tessuto connettivo economico capace di rispondere. Perché se tu chiedi un adempimento a chi non può materialmente adempiere mi sembra che siamo quasi al paradosso. Noi vogliamo evitare che si scambi con la necessità di un recupero to cure delle imposizioni fiscali la necessaria concretezza nel tentativo di dare al cittadino la possibilità di adempere e allo Stato di poter usufruire di quelle giuste risorse che l'imposizione fiscale consente. Grazie.